ciao a tutti raga comunque volevo solo dirvi che ho appena ho appena iniziato a fare dei video c'è un video pubblicato uno e vabbè ho aperto questo canale ho aperto questo canale sto dicendo e vabbè se potete mettere like grazie però se non volete cioè potete fare quello che volete insomma vabbè comunque sto facendo questi video poi porterò avanti il canale o anche lo studio in estate farò più video diciamo in estate siamo quasi io comunque mi presento sono lucia e ho 11 anni li faccio a febbraio e vabbè ciao comunque grazie di tutto ciao